ciao papà come va hai visto il video sui capelli quante visualizzazioni ha fatto una roba incredibile poi pazzesco cioè uno fa 100 video di filosofia l'unico che diventa più o meno virale è quello lì sul troppianto di capelli che è una roba pazzesca tra l'altro lo sto ricevendo dei commenti allucinanti c'è un sacco di gente ma un sacco di gente forse un sacco no però un bel po di gente che mi chiede e si convince che in realtà il trapianto non l'ho fatto cioè che ho una parrucca e cose di questo genere ma ti rendi conto comunque alla fine ho deciso siccome anche il primo aprile di fare un video in cui metto in copertina una foto di me vecchia senza capelli e di fingere di non far vedere i capelli fino all'ultimo secondo e all'ultimo mi tolgo il cappuccio e dico buon pesce d'aprile a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.